Due volte, campione europeo, 100-200 metri, tempi strepitosi, 19-84 tanto per dire all'aperto sui 200, una cosa strepitosa. Eccolo Bicquelu in completo verde, canto lui, divisa azzurra per Michael Toomey, secondo dall'alto. Teniamo d'occhio le prime quattro corsie dall'alto perché sono le corsie nelle quali c'è anche l'azzurro e attenzione Bicquelu se ne va, se ne va Bicquelu e va a fare 6-61, direi 6-61 che mette al sicuro a tirio il 6-62 di Gregorio che è in finale. Direi di sì, ha dato la buona impressione Tumi sulla partenza.